ciao ciao come va la vedovanza è come voi che fate è passato poco tempo hai ragione e dove te ne stai andando all'assicurazione voglio vedere se mi danno il risarcimento per mia moglie il risarcimento si teneva una polizza all'incendio e mica è morto incendiata no ma io l'ho fatta cremare